La guerra personale che qualcuno sta combattendo contro la famiglia Marangio, proprietaria di una salumeria a San Pietro Vernotico in via Carrozzo, è ripresa in tutta la sua folle violenza. Un ordigno di fabbricazione artigianale di alto potenziale è stato fatto esplodere davanti alla saracinesca del negozio distruggendo gli infissi e una parte della muratura. È accaduto a luna di notte tra martedì e mercoledì quando le strade del paese, vista la giornata prefestiva, erano piene di giovani. Si tratta del quarto attentato subito dai proprietari della salumeria in un anno e mezzo. L'ultimo era avvenuto il 6 febbraio dello scorso anno quando quella stessa saracinesca era stata acrivellata di colpi di pistola. Pochi giorni prima l'ingresso era stato incendiato mentre il 17 ottobre 2022 c'era stato un attentato esplosivo proprio come quello di martedì notte. Nei giorni successivi all'ultimo episodio i carabinieri avevano arrestato un ragazzo di 20 anni che abita poco lontano dal negozio e che fu trovato in possesso di due candelotti con miccia. Poi per poco più di un anno sembrava che la scia intimidatoria si fosse interrotta. Le indagini compiute dai carabinieri, visto che la famiglia Marangio è al di sopra di qualsiasi sospetto e che viene escluso anche il racket delle estorsioni, seguono la pista della vita privata. Proprio qualche giorno fa nel comune era stata presentata l'iniziativa della corsa della legalità organizzata a San Pietro Vernotico dall'Associazione Nazionale Magistrati.